ciao amici oggi guardiamo sofi sulle molle dei grandi che proverà a fare la capriola vero sofi falla in avanti poi poi prova a fare la capriola vai di più vai e oltre a sofia abbiamo gabriele sulle molle in avanti in avanti prova vai 1 2 bravo quasi ragazzi non c'è il coraggio di fare la capriola vai sofi prova devi darti lo slancio forte no